All'interno dell'istituto Adriano Olivetti di Fano è stata allestita una mostra fotografica intitolata L'essere indifferente, in questa occasione donne d'Africa, visibile dal 13 al 28 di aprile. Di che cosa si tratta e che cosa viene esposto? Allora, questo è un progetto denominato L'essere differente. In pratica il valore della differenza chiaramente è in chiave positiva. Qui sono rappresentate donne africane che hanno fatto la differenza in tanti campi. Quindi la differenza non intesa come valore da diminuire ma come valore aggiunto. Come capofila di questa mostra, che questo progetto rappresentiamo, vuole proprio cercare di sviluppare la cultura della differenza. La GFI da sempre ha prerogato questa causa e i partner che fanno parte di questo progetto sono l'Africa Chiama, Agedo e altre collaborazioni. Questo progetto è stato presentato alla Commissione Pari Opportunità dalla commissaria Alessia Di Girolamo. La mostra che presentiamo si trova nella sede centrale dell'Istituto Polo 3 in Via Nolfi. È aperta dalle 8 alle ore 14. È una mostra interna e quindi le scuole che vogliono venire a visitarla devono comunicarlo come presentato nel cartellone. L'Istituto Olivetti, che nei suoi indirizzi offre anche quello di grafica e web community, ha redatto una locandina su questa iniziativa. L'elaborato scelto è quello di Gioele Canistro. Gioele, che cosa hai rappresentato? Nel mio manifesto intitolato Donna in Africa ho raffigurato una donna africana con il continente africano che comunque dopo varie scelte di design ho scelto di metterla africa nei capelli. Come si può vedere nel manifesto c'è anche la bandiera dell'Africa raffigurata nello sfondo. Il Polo 3 ospita una mostra per queste due settimane. La mostra sarà visibile agli studenti dalle 13 alle 14 per due settimane.